Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 novembre 2022? Scopriamolo assieme. Dopo aver raccolto la confidenza della madre sul divorzio imminente tra lei e Michele, Rossella si scontra nuovamente con la gelosia di Riccardo. Ferri è sempre più convinto che Marina sia nelle mani di Fabrizio. Con l'involontaria complicità di Raffaele e dei suoi pastori del presepe, Diego si lancia con Lia proponendole un'uscita insieme. Fabrizio continua a vessare Marina. Ferri è deciso a mettersi sulle tracce di Rosato, Serena cerca di convincere Filippo a non assecondarlo e chiedere aiuto. Davanti alle intemperanze di Riccardo, Michele dirà chiaramente alla figlia cosa pensa del suo fidanzato e, nonostante anche Nunzio cerchi di aiutare Rossella a risolvere le cose, la ragazza vuole affrontare Riccardo da sola. Diego e Lia trascorreranno insieme una bellissima giornata che contribuirà ad accorciare le distanze fra loro ma, a quanto pare, non abbastanza. Malgrado Franco e Filippo vogliano aiutarlo, Roberto decide di agire in autonomia e avventurarsi da solo alla ricerca del nascondiglio di Marina. Rossella e Riccardo riusciranno a ritrovarsi dopo l'ennesimo litigio scaturito dalla sua inguaribile gelosia? Jimmy, diviso tra la madre e la zia, viene messo ancor più in difficoltà da una particolare proposta. L'incontro tra Antonio e Manuel non va come pianificato, i due bambini non sembrano andare molto d'accordo. Come se non bastasse, Rosa peggiorerà le preoccupazioni di Viola con il suo comportamento. Nel frattempo, la follia Fabrizio arriva a un punto di non ritorno. Mentre Antonio si ingelosisce delle attenzioni della madre nei confronti di Manuel, Damiano e Rosa si scontrano a causa di pareri divergenti sull'educazione del figlio. Le gemelle continuano a contendersi Nico e Jimmy. Successivamente a Michaela viene un'idea dopo aver ascoltato una conversazione sulla casa vacanze di Alberto Palladini. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.